Che arriva per questa sfida di Champions League Rispetto al solito ci sono stati svariati cori di incitamento per fortuna C'è anche dietro il van con lo staff dirigenziale che segue il pullman Continuiamo a seguire finché la visuale ce lo permette Sta arrivando all'ingresso del passo Carraio per poi scendere giù negli spogliatoi Ora torniamo, sento un bel boato tra l'altro